voglio ascoltare un cazzo no sono tranquillo un cazzo ok lasciatemi in pace a me prendiamoli la targa che ti ammazzo io ti ammazzo sono in piedi dalle 4 e mezza mi serve un po' più vieni qua non ti faccio niente non ti faccio niente ma perché non stai accettando nessuno ti ha detto un cazzo qua ma l'abbiamo in cazzo vai perché sei salito sul cazzo? un pezzo di merda sta arrivando la via sto parlando con lui non sembra il cazzo che ti ammazzo ma non mi portai via qua 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 deve ammazzare qualcuno ecco io wow oh 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 che si sono andata la camera ma vi conosco vi conosco già che cazzo siete voi siete delle merda ma non ti senti sicuro perché sono fatigati io sono in piedi dalle 4 e mezza e mi si sognuno la fatica perché noi coglioni piedi mi si sognuno la fatica faticano tutti quanti cioè nemmeno qua non ti permette di lasciare i cristiani questa fatica questa la camera sta beccando e mi sta tirando sotto è stato di giusto è stato di giusto è stato di giusto